I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari nei confronti di quattro persone residenti nel capologo Nisseno, di cui tre appartenenti al medesimo nucleo familiare, gravamente indiziati a vario titolo, in ordine ai reati di sequestro di persona, esercizio abusivo della professione sanitaria e abbandono di incapaci nei confronti di anziani ospiti di una casa di riposo a Caltanissetta. L'ordinanza è messa nel corso delle indagini preliminari dal GIP di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, trae origine da un'ampia e articolata attività investigativa, condotta a partire dal giugno del 2023 dalla sezione operativa della Compagnia Carabinieri, che avrebbe rilevato una conduzione illecita dell'attività assistenziale agli anziani ospiti di una casa di riposo nissena, i quali quotidianamente sarebbero stati abbandonati anche per diverse ore, nonostante le loro richieste situazioni di grave pericolo per la loro incolumità personale, senza adeguata assistenza, soprattutto notturna, all'interno della struttura. Nel corso delle indagini è emerso altresì che la casa di riposo sarebbe stata priva degli adeguati requisiti organizzativi e igienico-sanitari, in quanto connotata da servizi igienici mancanti di coperture, esiguità di appositi bagni per persone con disabilità e condizionatori non funzionanti. Gli accertamenti avrebbero permesso di dimostrare l'assenza di figure professionali idonee, in quanto prive di qualifiche, necessarie per salvaguardare in modo corretto la salute degli adegenti. In ragione di una politica gestionale volta al contenimento delle spese tramite l'assunzione di operatori in numero inferiore, a quanto previsto è necessario, agli anziani ospiti sarebbero stati anche somministrati medicinali tranquillanti, senza alcuna prescrizione medica, al fine di fronteggiare l'assenza di personale soprattutto nelle fasce orare notturne, così riducendo il rischio di dover erogare un'assistenza notturna attiva. L'attività investigativa avrebbe persino permesso di accertare, a carico di uno degli indagati, una serie di comportamenti che integrerebbero la fattispecie di reato del sequestro di persona, in quanto l'anziano paziente è stato letteralmente rinchiuso nel suo posto letto attraverso l'utilizzo di griglie di ferro, normalmente utilizzate come barriere laterali, impedendogli di spostarsi durante la notte. I militari dell'arma, su disposizione del jeep di Caltanissetta, hanno posto sotto sequestro la casa di riposo, ora affidata ad un amministratore giudiziario, procedendo anche ad un'ispezione igienico-sanitaria della medesima struttura, con l'ausilio di personale del nucleo antisofisticazione e sanità di Ragusa, mirata ad accertare la sussistenza di ulteriori inadempienze. Alle operazioni ha partecipato anche il personale medico, che ha svolto opportuni e accurate accertamenti al fine di verificare le attuali condizioni di salute degli anziani.